Teo! 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 David! David! Oh! Fai vedere la chiave del bagno! Fai vedere la chiave del bagno! Punta la porca qui! Punta la porca! Perfetto! No! No! Sto facendo il filmino dalle strade del Bic! No! No! Il numero uno è la chiave del Bic! Lui è veloce a portarsi anche da l'acqua! Ho 18 dolla ha promesso quest'anno eh! Vedrete che inverno, vedrete! Vengo a vedere! Se stai in panchina ti apporgo ti sguardo! Ti tiro la roba! Sì! Voglio fare il capitano! Io sono una panchina! Dio! Capitano non gioca porca! Capitano non gioca porca! Lo fanno il capitano di lungo sorso! Io sono un capitano! Perfetto! Io parlerò con i fatti! Perfetto! 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 Scusa, becchi di uno che faceva i gol! Io avevo il campionato con 16 tempi! Che bello! E io son fuori come la mia! Giorgio, che cazzo fa a chiamare bombe uno così? Oh, nota il fisico! Guarda lì! Non lo riprendi, riprendi! No, non lo riprendi! Dai, vai Giorgio! No, 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 ma Ivano è rotto Giorgio! Vai vede, non ci sono, la bussagna è un po' più giù! Vai, vai, vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! E che trovo le figlie! Buonga, datti la tua opinione! Il segreto è scosso! La tua opinione si lascerà! Bella scosso! No, 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 il segreto di Giorgio è la valigetta! Eh, non te lo può dire la valigetta! Dio boi! Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Sei un parassita normalissimo! Che cazzo! 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 da 5 del mattino ero fuori come un balcone, il cappotto lo tiro là e i vibratori rimangono in una scatola sotto le camicie, allora io mangio 15 banane al giorno, io alla mattina vado a lavorare alla buon'ora, 10 e mezza, io arrivo a fare le pulizie e che il mio porco ha due gradi per occhio, vede un coso là e dice che è una banana, allora quella era mangiato dove tenero i fazzoletti da naso, le banane marciscono, queste che sono senti in rifiuto che hanno messo una banana, l'ho andato a prendere giù, fortuna che quella da 18 aveva il motore fuso che, l'abbiamo fuso due giorni da prima, si è fuso il motore, c'era il facente quello da 25, aveva 4 batterie, io porca lì me, cronio col funtaggio dentro, ti prende il morto, ti pagno, ti dice porca, facevo un attabaglione tutta la giornata, facevo un attabaglione per la settimana, non ti credo, non ti credo, non ci credo, non ti credo, non ti credo, non ti credo, fanno 4 batterie, fanno 4 batterie, fanno 4 batterie, mando le frecce del sud fino a non è la prima volta che l'ha scelto quel cazzo nì era 4 perchè le bambine per giocare allora vado a casa la mezza no? vado a casa ho chiudo l'officina vado a casa mia mamma io l'ho vado dalla faccia no? cosa è successo? perchè ma cusquiera ho visto che roba cusquiera sotto i capote ah si ma cusquiera da pesca no e tu cazzo perchè il bordello vado a casa vado a casa i bambini che cazzo con le bambole? mi può dire che mi sia rotta una macchina a chi l'ha venduta lei la macchina? voglio vedere se mi vende il corpo mi può dire? no no non 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 Grazie a tutti